Amici sportivi, bentornati, benvenuti, oggi è giovedì, 5 gennaio 2023, l'ultimo appuntamento fu il 21 di dicembre con l'ultima giornata di andata, oggi si comincia nuovamente con i pre e post partite del campionato nazionale di Serie D, in questa prima giornata di ritorno 18esima puntata, prima giornata di ritorno del campionato, prima di iniziare vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale di Youtube e seguirci sui vari social Instagram, TikTok, Facebook e tanto altro, troverete tutto sui vari social, basta cercare il nome e il cognome del sottoscritto Federico Ragona, andiamo a vedere il programma della 18esima giornata, il programma domenica 18, domenica 8 gennaio, valevole per la 18esima giornata, Canicati Lamezia, Castrovie, Ilari Licata, Catania Ragusa, Sant'Agata, San Catardese, Cittanova, Cireale, Locri Polisportiva Santa Maria, Paternò, Real Aversa, Mariglianese, Trapani FC, Vibbonese, San Luca, per quanto riguarda le siciliane diciamo che il Trapani va in traspetta con l'ultima in classifica, mentre il Paternò ospita il Real Aversa, diciamo per le siciliane sarà un girone di ritorno importantissimo, il Catania giocherà in casa davanti al proprio pubblico per la prima giornata di ritorno in programma ricordiamo ancora una volta domenica di fronte c'è un ragusa ne ha promossa di questo torneo per quanto riguarda il Trapani giocherà domenica meccoledì 11 gennaio con il San Luca e poi domenica successiva ospiterà in casa il Locri seconda forza diciamo di questo torneo un Locri che sta facendo benissimo in campionato siamo in chiusura di questo primo appuntamento del 2023 con la diciottesima puntata prima giornata di ritorno valevole per il campionato nazionale di serie di giorni iscrivetevi al nostro canale e attivate la campanellina per restare sempre collegati con noi